Con un più 8,4% è il distretto orafuaretino il comparto più rilevante del sistema moda nell'andamento positivo delle esportazioni distrettuali toscane nel primo trimestre 2023. Quella aretina si conferma inoltre come prima realtà distrettuale del settore orafu, rafforzando la tendenza positiva già maturata nel 2022. È il dato che spicca dall'analisi elaborata dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa San Paolo, che complessivamente parla di un più 2,4% con un valore di 5,9 miliardi di euro, superiore di 137 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Tra le specializzazioni evidenziate dal report del Monitor dei distretti della Toscana, a ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche quegli aretini della pelletteria e delle calzature più 33,1% e del tessile e abbigliamento più 10,5%, che però nel 2022 non avevano ancora completato il recupero rispetto ai dati pre-Covid. Dal punto di vista del valore di esportazioni, al primo posto per rilevanza si conferma il distretto della pelletteria e calzature di Firenze con 1,8 miliardi di euro di esportazioni. Bene anche la filiera agroalimentare, che rappresenta circa un decimo dell'export distrettuale toscano e ha realizzato una crescita del 3,1%. Nel primo trimestre 2023 si consolida il ruolo del distretto dell'olio toscano, più 13,3%, maturato soprattutto nel mercato statunitense e francese.